Roberto Spano, Sardex.net, ci occupiamo di compensazione multilaterale senza l'uso di euro. Che innovazione portiamo qui? Ma soprattutto l'attività e il valore che sta creando la comunità che abbiamo costituito, cioè l'insieme degli iscritti a Sardex che hanno superato i 2.700 e ci stiamo rendendo conto che oltre lo scambio economico, quindi oltre le transazioni che i nostri iscritti generano, si stanno creando dei rapporti comunitari che vanno ben al di là come valore del semplice scambio. Di questo stiamo dando testimonianza qui, stiamo incontrando molti degli innovatori che sono qui presenti, che sono i nostri iscritti e cerchiamo di svolgere anche qui quel lavoro di connessione, di sinapsi tra operatori economici sparsi sul territorio che spesso non si incontrano molto.